Ciao a tutti ragazzi, io sono Dynamic e oggi siete sul clan RGR e oggi vi farò vedere su come spostare più video insieme su Camtasia Studio Che cazzo dico Camtasia Studio? Su Sony Vegas Pro 12 E praticamente questo problema è stato risolto da Sagittario, questo è un suo video e io sto mettendo solo la voce perché naturalmente lui non può parlare perché è muto, no sto scherzando Vabbè, comunque iniziamo subito al punto, dovete andare sopra dove c'è la barra e cliccare sulla freccia in giù e selezionare All Tracks Markets and Regions Naturalmente se ce l'avete in italiano dovete selezionare comunque la terza, una volta selezionata e cliccata la terza dobbiamo andare a cliccare su questa icona, icona accanto alla freccia in giù Cliccando quello, ora se noi scegliamo il primo video, cioè dall'inizio del video, se noi lo trasciniamo lo possiamo mandare a dove ci pare A Monculi, nel Cesso, a Vaffanculo eccetera eccetera, no dai sto scherzando, comunque lo possiamo spostare Se invece dovete spostarlo dal mezzo del video, cioè qua per esempio, lo potete spostare anche da qua, nessuno ve lo vieta, nessuno vi uccide, nessuno vi mangia E comunque ciao a tutti ragazzi, ringrazio Sagitario che ci ha fornito a me e a Rector questa informazione Perché ci saranno altri, naturalmente, che avranno avuto lo stesso problema Perché lui non ha trovato il video e è andato a cercare chissà da dove, non so, non lo chiedete a me perché io non sono saggio E comunque ciao a tutti ragazzi, alla prossima, se vi è piaciuto il video e vi è stato utile mettete mi piace per favore Se c'è qualche altro, c'è qualche problema o ci volete chiedere qualcos'altro mettete, chiederselo sotto in commento Se vi volete tenere aggiornati sul mio, sul nostro canale, iscrivetevi E ciao a tutti ragazzi, alla prossima e presto verranno altri tutorial molto utili, utili, niente tutorial di merda Ciao a tutti ragazzi, alla prossima